Lo scorso 22 settembre furono due carabinieri, i primi a intervenire in aiuto delle persone rimaste vittime nel crollo della palazzina di Saviano, in provincia di Napoli, causata dallo scoppio di una bombola del gas che provocò la morte di quattro persone, di cui due bambini. Per questo gesto al brigatiere Mario Michele Conte, al collega Dario D'Ambrosio, è stato consegnato dal Consiglio regionale della Campania il riconoscimento, il ricordo dei caduti nell'attentato di Nassiria del 12 novembre 2003. Eravamo i primi ad arrivare come pattuglia e abbiamo incominciato a sentire delle voci in lontananza da sotto alle macerie, per cui ci siamo adoperati a cercare quanto più era possibile a scavare a mani nude. Abbiamo iniziato a scavare in quelle zone dove poi effettivamente sono stati estratti vivi, sia Antonio che il piccolo Gennarino di due anni. L'iniziativa è rivolta ai militari dell'esercito italiano e dell'arma dei carabinieri che si sono distinti nel loro impegno quotidiano al servizio della collettività. 12 riconoscimenti consegnati, tra questi a Vincenzo Zito, dell'esercito italiano. All'interno della stazione di Napoli centrale c'era un soggetto che a bordo di un treno aggrediva il capotreno e il personale della FS Security. E sono intervenuto cercando di bloccare questo elemento ostile, in quanto ha cercato anche di soltrare l'arma a un collega. E quindi sono riuscito ad intervenire bloccandolo e mettendolo in sicurezza, aspettando poi l'intervento della polizia ferroviaria. Intervenuti il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, il generale dell'esercito Angelo Michele Ristuccia e il generale dei carabinieri Cagno Giuseppe Lagala. Sono stato contentissimo di premiare quel brigadier dei carabinieri che non poco meno di due mesi fa interveniva sul quel crollo nella provincia di Napoli e a mani nude si vedeva impegnato con un'azione di protezione civile.